Sono Kevin e benvenuti in questo nuovo video Oggi incredibile moment Il giorno a tanta attesa è arrivato Stagione 25 Ci riscuoterà tutto in automatico Sbam! Abbiamo anche un diopettino Leggendare, attenzione Sì! No, è una skin No, volevo Vabbè il gioco non c'è Vai con il primo drop, non so quanti sono No, avete visto che Sfortuna la skin di Iris Oh, come? Ah, è vero che ho già i crediti extra Eh, regà, allora Oggi instant miss, lo sblocchiamo Super raro? Epico? Faccina di low Ma cosa sono tutti sti scomp... Sti ricompense? Mitico! Abbiamo miss anche Fa sempre faccina, regà! Quante faccine sono? Altro drop? Madò, che bottazza di sfiga Altro droppettino, mitico di nuovo! La fortuna di Kevin è la cosa più forte Che c'è su Brawl Stars Gadget di... Vediamo Cioè, c'erano solo mitici, epici Madora, doppiaggettoni buoni Ma per me adesso no, regà Deapravamoli tutti Abbiamo già trovato troppa roba Super raro di già! Ah, faccina di angelo Regà, eh Io penso che, non so Ho perso il conto Quante faccine sto trovando Solo faccine Sono scritte Abbiamo trovato Iris Campana Di sicuro Era meglio I crediti Voglio essere sincero Perché così lo andiamo Andavamo a sbloccare subito Ma no No, no, no I crediti non ce li darò mai Mitico di nuovo! Basta Faccine Voglio I crediti I crediti Io non so se oggi Vi andiamo a completare Brawl Stars Super raro Ma quanti sono, regà? Quanti ne ho filati Sta season Primo poi Buoni crediti Ci servono No, regà Non sono abbastanza Dobbiamo trovare Una leggendaria Sì, vabbè Scioppa Scioppa Perché se no Non lo puoi avere prima Allora 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 Dobbiamo vedere se ce la facciamo A sbloccare Dai No, non con la missione lì Allora Qua notizie Nuova stagione Nuovi modificatori Mi sa che sono meno Apriamo il negozietto Se si apre Si blocca sempre tutto Abbiamo 10 promistare Vediamo cosa troviamo Si blocca sempre un po' tutto Il negozio Ecco il primo Super No, regà Saranno tutte buttazze Quelli gratis E' totalmente scritto Super Oh Altri crediti Per noi Buoni Regà Solo crediti Dobbiamo pensare Ecco perché Non volevo I riscampano E' una bella skin Comunque Adesso la andiamo Anche a verificare Già avete visto Quanti drop Mitici Cioè erano scritte Le emoji Erano scritte Abbiamo anche i premi Della golden week Quanti star drop Premo in questo video Madonna Doppio oggettoni Che sfortuna Allora Torniamo un attimo qui Non per i uovi Ma per le missioni Ma soprattutto Torniamo qui Perché adesso Noi andiamo nelle maestre Io ci avrei le ricompense Delle maestre Torniamo le missioni Tutto E andiamo a vedere Cosa abbiamo Allora abbiamo 150 di cotoletta Che noi ce ne andiamo a pigliare Già 12.000 Allora abbiamo Stiamo attenti Perché qua Regà è un butta Un butta grani Incredibile Abbiamo già questo Allora Dog No Cavolo Cavolo Non sono accorto Vero 75 Non so Sto impanicando Regà Non so se lo andiamo A sbloccare oggi Nel dubbio Vi chiedo un like Per la tempistività Che La tempistività Che sto facendo Maestre a uno No Cose qui E poi qua Andiamo a dare i crediti Attenzione 75 Ricordatevi No Siamo qua Abbiamo tre Allora Chissà il leggendario Quanto faticheremo Cioè Dobbiamo avere fortuna I promedi Roppettini Perché leggendo I prossimi Brawl Saranno davvero tosti Andiamo a prenderci Questi Questi Delle maestrie Sono l'unica cosa Che ti vendono Maxato Perché senza Queste ricompense Qui vedi Non puoi fare Nulla Ecco Qua ne ho trovato Una da tre No regà Sono pieno Di maestre Completate Ho anche paura Allora 75 Non mi dire che Allora Io regà Non sono un player Che scioppa Con le gemme Brawl Quindi anche se Non ce le ho Non penso Vado a sciopparla In questo video Allora 3D Dynamite Buono Mi sa che Adesso C'è lo Andiamo a Sbloccare La risposta Eh sì Eh sì Dopo questa Dopo questa Regà Lo faccio Per il meme Aspetta Che faccio Fare una Scree Sciottina Tattica Qua in questo momento Lo faccio Per voi Lo faccio Per voi Andiamo Sbloccare L'ultimo Brawl Del gioco Sì Lilli 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 Di farcela Livello Ultimo livello Ecco Livello Precisi Ci siamo andati Precisi Oggi Allora Non ho gadget Però A quanto mi dicono Dalla regia Andiamo Andiamo a vedere La sua maestria Oh Non te lo aspettavi Andiamo a completare Tutto Brawl Stars Guarda questa Vediamo nel club Come Come stiamo messi Qua stiamo messi Alla perfezione Proprio Non sto Tragliardando Su sto evento Andiamo male Andiamo male Adesso Ci mettiamo Una bella Duo Ci facciamo Qualche partitina Duo Che mi da Tutto Buggato Negozio Bugga Sempre Prendiamo I raddoppi Aggettoni E si blocca Sempre Abbiamo capito Ecco Siamo tornati In home Allora Non c'è L'evento Di Gozzi Oh Boom È iniziata La nuova season Vediamo Come stiamo Messi Perché Qua siamo Messi Bene Qui Già Stanno Tragliardando Da questa Parte Allora Come stiamo Messi Allora Noi siamo A bronzo Io Regalo Sai che Vi dico Ce ne Vero a fare Qualche partitina Qui Con Nei Modificatori Per divertirci Un po' Tanto Poi Vi prenderò La Tragliardata Non vi Preoccupate Rimanete Sintonizzati Rimanete Regalo Ma tanto Sono Bot Si può Andare Di Chiunque Cioè Andiamo Di Dov'è Lilli Ah dai Andiamo Di Lilli Lo so Pista Maffa Bo Gigi E' Uscito Ma era Quello Vero Ma che Mi sta Dito Proprio Regalo Oggi Giornale Un giorno Di scuola Far uscire Sta Roba Giornale Di scuola Browel In combo Nuovo Passi In combo Tutto Tutto Io posso Allora Regalo Adesso Io Seriamente Io posso Capire Ma non Andarmi a Droppare Tutto In un Giorno Tutto In un Giorno Regà E' Follia Tanto Regà Metto Chiunque Tanto Qua Saranno Mezzi Bottati Ci scommettiamo Ecco Infatti Tipo Questi Questi Ci ha perso Anche Una Oro Gigi Allora Regà Se Se perde La Prima Ah Una Bella Vita Però Quanti Danni Ma Quanto Fa E' 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 Dannetti Incredibili Quanto Faceva 21 K E' La Mariscola E' Stata Bilanciata No No E' Forte Secondo 22 K Mamma Mia Ma cos'è L'anti È il Primo Vabbè A me Mi sa Un bel Po Forte Vogliamo Anche Saperla A livello Massimo Cioè Se è Un'abilità Dello Scuda A livello Massimo Perché Non L'ho Viste E' Devastante Sta Roba Quella Prima Sono Al meglio Delle Due Sono Al meglio Delle Due Sono Al meglio Delle Due A quanto Abbia Capito Tanto Regà Tutti I bot Qua io Vi dico Per le prime Parti Del gioco Vai Di Chiunque Tanto 175 Oh Non sta Di Roppino Ah Vero Che Avevamo Trovato Iris Campana Iris Campanella Dov'è Il mio Amico No Iris Regà Mi piace Tanto Sopra Iris No Ma Che schino Ho Trovato Per quanto Costava Non ci credo Ho trovato Una skin Da 80 Gemme Poi Beccavo Solo Mitici Epici Aiuto Sempre Quei Regà Che Ci facciamo Anche Gli uovi Davvero Momento Epico Allora Di chi Va Si va Fortemente Facciamo Una roba Adesso Regà Andiamo Sempre Di così Lo so Non lo fate Voi Non fate Come sto A fare Io Ma Tanto È L'inizio È L'inizio Sono tutti I bot Quindi Vai di Chiunque E anche A quanto Abbia sentito Ho consigliato Anche Aspettare Delle ore Perché Sono i primi Giorni Ci saranno Gente Più Forte Infatti Vaga Concordo Su sto Fatto Perché Infatti Forse Se Vai nei giorni È dopo È un pochettino Non definizionalmente Ma Un po' Più Facile Mi sa Ah Quindi La super Vedete È molto È molto È molto Forte 21 60 Da vicino 21 60 Vediamo Poi se Regà Riusciremo Nel prossimo Aggiornamento A sbloccare È il Debrago È È il Debrago Quel Browel Nuovo Leggendario Speriamo Di sì Allora Ci stanno A sfasciare I bot Perché Per questa Mappa Questo Browel Veramente Veramente Se ci facciamo Battere dai bot Penso che Non lo so Più Cosa vogliono Fare Randomini O Speriamo Anche Di Stasiso Di andare In Stasison Di andare A leggenda 1 Perché Vorrei tanto Ritornarci A leggenda 1 Chi è con me Bene 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 Vittoria Più Più 75 Più 80 Punti Oh Uovo È giù È giù È giù È in basso Una mutazione Una mutazione Una mutazione Attenzione No Il like È per la fortuna Oh Oh Squeak Squeak La mutazione Di Squeak Non abbiamo Manche visto Il nuovo pass Ah è questo Voglio vedere L'ultima Allora Mi prefero Il pass Di un bot Costa sempre Uguale Teoricamente La risposta Eh sì Aiuto Che skin Di tic Devastante Devastante Questa Madò Le bombette Quanto è bella 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 Vabbè Ragazzi Noi ci salutiamo Ci becchiamo A prossimo video Quindi Ciao belli Ciao